Intanto macchina che accelera, in partenza è veloce solo G che va al comando mentre cerca ancora di... Sgt. Pepper che era il più seguito. E così 14.6 per i primi 200, solo G prende subito il largo in seconda posizione Sonar Gas, precede il resto dei concorrenti con Softail F che figura in terza posizione, intanto 36, passaggio è il 400, fin dietro c'è Stylist Danny, mentre percorsie esterne cerca di risalire Suertes Cage dopo 500 metri di gara. Intanto i 600 iniziali completati in 47.2 dal leader solo G, allieva di Enrico Bellei al debutto, che guida davanti alle tribune nei confronti di Sonar Gas, terza posizione per Softail F, percorsie esterne Suertes Cage con in schiena Sex Bomb Ross. A largo anche Sherazade, cavalli al completamento degli 800 in 1.3.2, si affronta la penultima piegata, sempre solo G a condurre nei confronti di Sonar Gas e Softail F. Suertes Cage percorsie esterne senza per il momento rendersi minacciosi, intanto il chilometro è l'1.18.9 per solo G, a largo c'è anche Sex Bomb Ross, mentre prova a restare a contatto alla corda Stylist Danny, 450 alla conclusione. Suertes Cage ora attacca la battistrada a solo G, la pariglia a 350 dalla conclusione. I due vanno in perfetta pariglia, 300 dalla conclusione, col maschio che attacca, ma c'è anche il tentativo in terza ruota di Softail F, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, solo G in vantaggio, Suertes Cage che insiste. Alla corda si lancia anche Sonar Gas, a centro pista lo scatto di Sofia Capar, e Sofia Capar che nel finale passa per vincere, prima in carriera. Il secondo posto è per Softail F, al terzo Sonar Gas, 1.18.2, 31.5 a chiudere. Sono calati i protagonisti dei tre quarti di gara, vale a dire solo G e Suertes Cage nelle battute finali, ed è così Sofia Capar che passa anche abbastanza nettamente sul traguardo con in sediolo Francesco Virzi. Quota di 37.40 al totalizzatore dopo due rotture, Sofia Capar per il training di Edi Moni, la scuderia Conni. Vince la prima in carriera, spunto preciso a centro pista, trova tutti un po' fermi. Softail F riesce a essere comunque probabilmente seconda su Sonar Gas, che è comunque a contatto. Forse foto per il secondo posto, la vittoria netta invece per Sofia Capar, 37.40.